Assegno unico, IMSS attiva un nuovo servizio proattivo dedicato ai genitori. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta. Ciao amici di Radio Uci, io sono Giulia e in questo Focus Previdenza parliamo del messaggio IMSS numero 3078, con cui l'istituto comunica l'attivazione di un nuovo servizio per l'assegno unico e universale per i figli a carico. In pratica, ora, l'IMSS contatterà via email i genitori che hanno appena avuto un figlio, invitandoli a presentare la domanda di assegno unico universale oppure ad integrare il beneficio già percepito per altri figli a carico. Più nello specifico, il servizio viene erogato dalla piattaforma di Proattività, finanziata dal PNRR, che è in grado di rilevare la nuova nascita come evento abilitante per il diritto all'assegno unico. Ovviamente, il servizio è attivo solo per le persone che hanno dato il consenso a ricevere comunicazioni proattive dall'IMSS. Per ricevere questi contenuti personalizzati e i servizi in modalità proattiva, basta andare sul sito IMSS, accedere alla propria area MyIMSS e poi cliccare su Vai ai tuoi consensi. In questa sezione, l'IMSS fornisce tutte le informazioni utili sui servizi proattivi e, se si decide di accettare, bisogna premere su Adesione ai servizi proattivi e poi sulla voce a Consento. In generale, comunque, il nuovo servizio si inserisce nel processo di progressiva semplificazione dell'attività amministrativa che segue il piano strategico digitale 2022-2025. Nel messaggio numero 3078, IMSS spiega che la proattività dei servizi è da intendersi come un nuovo approccio tra istituto e cittadini, capace di anticipare e soddisfare più velocemente le richieste degli utenti, informandoli preventivamente delle prestazioni a cui hanno diritto. Per il momento, quindi, l'attivazione del servizio proattivo riguarda solo i potenziali beneficiari dell'assegno unico, ma nei mesi che seguiranno verrà esteso anche ad altre prestazioni. E per ora è tutto, al prossimo Focus!